Abbiamo tre funghi, uno più bello dell'altro, non si sa bene quale sia il più bello. Andiamo a vedere, questo è il primo, all'incirca sarà 4 etti, poi abbiamo questo, all'incirca sarà 3 etti e mezzo e poi ne abbiamo uno là, che è quello lì all'incirca 6 etti, circa praticamente un milione, un chilo e quattro di funghi.